Grazie Presidente, mi sono presa degli appunti rispetto ai tanti contributi ricevuti anche dai consiglieri di opposizione, sicuramente ci tengo a dire quello che ho già anticipato nell'illustrazione della delibera, che lo spunto riflessivo e quindi l'input nasce proprio da un dialogo che c'è stato, ma non come dice il consigliere Filomeni solo dalla commissione del 20 ottobre scorso, adesso non ricordo perfettamente la data, ma già dall'inizio della consigliatura, almeno per quanto mi riguarda sicuramente dalla fine del 2017, quindi questi spunti di riflessione sono arrivati proprio all'interno di un percorso che è stato quello di confezionare la riforma delle consulte per i diritti delle persone con disabilità. Quindi sicuramente approfitto, era già la mia intenzione della dichiarazione di voto, di ringraziare le consulte perché ci tengo a dire che non voglio prendere i meriti questa iniziativa, al contrario di quello che vedo che il consigliere Filomeni insiste nel vuole prendere i meriti della proposta e questo mi dispiace perché neanche io mi permetto di prendere questi meriti, semplicemente perché come ho spiegato nell'illustrazione la richiesta è venuta dalle consulte stesse, di fatto è un qualcosa che in passato non è mai accaduto, quindi se arriva questa richiesta dalle consulte forse significa che prima non sono mai state ascoltate. Quindi questa richiesta, ripeto, io l'ho recepita sicuramente già dal 2017 e semplicemente non è arrivata prima in aula perché si è voluto portarla in parallelo rispetto alla proposta di riforma delle consulte per i diritti con disabilità, proprio per dare maggiore forza a quella riforma. Quella riforma ha richiesto un tempo molto lungo di ascolto, di consultazione e le consulte stesse mi hanno richiesto in più occasioni di presentare la delibera 183, quindi di modifica del regolamento del Consiglio Comunale, insieme alla delibera di riforma delle consulte per i diritti delle persone con disabilità e possibilmente anche prima e questo io ho fatto, quindi ho accolto le loro richieste proprio perché è vero, è corretto, è importante prima contestualizzare qualcosa che poi abbiamo detto non riguarda soltanto questo tipo di consulte, ma anche le altre consulte che ricordiamo non sono da meno, io so che la consulta per la sicurezza stradale lavora molto bene, ho avuto possibilità di interloquire sia con il Presidente di quella consulta, adesso non so se è cambiato rispetto a quello con cui avevo interagito io due anni fa, ma sicuramente so che questo tipo di modifica che noi stiamo apportando nel regolamento del Consiglio è sicuramente auspicabile anche da tutte le altre consulte, quindi l'intento è di rafforzarle a tutto tondo e quindi poi anche di quelle che ci auguriamo verranno. Quindi di fatto, ripeto, ringrazio in particolare i rappresentanti delle consulte per i diritti delle persone con disabilità, sia a livello cittadino che municipale, sono state loro che hanno dato questo input e questo voglio che sia chiaro a tutti e perché è giusto riconoscerlo. Un'altra cosa che volevo dire è che, scusate, sono tanti gli punti di riflessione, innanzitutto voglio ringraziare il Consigliere Sturni che di fatto con il suo emendamento ha effettivamente posto una garanzia in più, soprattutto rispetto al dovere che avranno le commissioni consigliari di esaminare le osservazioni, quindi proprio per non rischiare di trovarsi poi a ridosso della votazione in aula e quindi di fatto poi creare una serie di ritardi o di invalidare la procedura, oppure rischiare di non raggiungere l'obiettivo che è quello di esaminare le osservazioni e mediante anche l'audizione dei Presidenti o dei rappresentanti degli organi esecutivi della consulta. Un'altra cosa che voglio dire, innanzitutto ringrazio il Consigliere Zannolla per le parole che mi ha riservato, perché è vero, io questo me lo riconosco, sicuramente ho ascoltato e quindi questo è sicuramente il frutto di quell'ascolto, nulla più. Ringrazio anche gli uffici, una cosa ci tenevo a dire ai consiglieri De Priamo e Figlio Meni, non sono intervenuta prima perché mi riservavo di farlo adesso, semplicemente non abbiamo accorto quegli emendamenti perché in qualche modo ho seguito anche le indicazioni degli uffici che con un parere tecnico contrario sicuramente avranno valutato che non era il caso di eseguire quelle modifiche, ma di fatto li ringrazio comunque per il contributo che hanno comunque voluto fornire al lavoro, non è un intento sicuramente di ostacolare in nessun modo, semplicemente mi sono anche un po' attenuta a quelli che sono i pareri degli uffici. Quindi una cosa voglio dire anche al consigliere Figlio Meni, poi chi mi conosce sa che non sono una persona polemica, però lui dice che la consigliera ha ascoltato, ascoltato e non ha approvato gli emendamenti, ascoltare non significa approvare tutto, questo lo dobbiamo sempre ricordare. E poi vabbè, una piccola nota di colore, insomma lui dice che qualcuno manca al fosforo, però lui ha sbagliato il mio cognome, insomma io gli ricordo che il mio cognome è Paciocco. Velocemente voglio ringraziare gli uffici che hanno fornito un supporto alla formulazione del testo e della proposta, il loro contributo è sicuramente stato fondamentale, vista anche l'importanza di andare a rimodulare alcuni commi del regolamento del Consiglio di Roma Capitale, su procedure consolidate e rilevanti nell'azione del Consiglio stesso. La delibera, come già illustrato in precedenza, garantisce il ruolo di legittimo interlocutore alle consulte cittadine nei confronti dell'amministrazione, consulte che sono i primi organismi di partecipazione, quelli più vicini all'amministrazione appunto e quindi deputati ad essere ascoltati nelle fasi dei processi decisionali di Roma Capitale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità. L'obiettivo ultimo è quello di valorizzare lo strumento delle consulte attraverso un'impostazione basata sul dialogo continuo con gli organi politici e amministrativi, ovviamente sull'incardinamento del loro coinvolgimento negli iter deliberativi degli atti di natura consigliare, senza appesantire, invalidare o ritardare l'ITAR standard. In questi quattro anni, questo però ci tengo a dirlo, scusatemi prendo forse qualche secondo in più, noi consiglieri di maggioranza sicuramente abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile le consulte nell'analisi delle proposte di loro competenza e mi riferisco in questo caso, come già anticipato, alle consulte per i diritti delle persone con disabilità, durante tutte le fasi della loro realizzazione e approvazione, apprezzando e spesso inglobando il contributo di riflessioni e proposte concrete che abbiamo ricevuto proprio da loro. Vogliamo che questa esperienza positiva e utile sia messa a sistema tramite una regolamentazione puntuale e permanente al fine di garantire che queste interlocuzioni si svolgeranno sempre da qui in avanti e con qualsiasi amministrazione si succederà negli anni a venire, favorendo così un dialogo continuo e costruttivo tra cittadini, organizzazioni e istituzioni. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle esprimerà parere favorevole rispetto a questa proposta e aspettiamo che anche le altre forze politiche possano sposare il proposito di rendere più efficace l'azione consultiva e propositiva di questi importanti organismi di partecipazione, votando favorevolmente la proposta. Grazie a tutti.